Ho deciso di candidarmi per il Senato, è il seggio di Monza e Brianza dove sono cresciuto, il collegio dove era stato eletto Silvio Berlusconi. Penso che sia importante portare in Parlamento temi e battaglie che oggi sono a rischio e che riguardano la vita delle persone, la vita della democrazia. Grazie a tutti. Marco Cappato è un uomo capace di grandi battaglie, non sempre io le condivido, anzi non so quanto quello sia il profilo più adatto per cercare di vincere, cioè va capito se l'obiettivo è vincere o partecipare. Questa mattina era in piazza Roma a Monza per presentare la sua candidatura alle elezioni suppletive che si terranno in ottobre. Il posto in Parlamento è quello lasciato da Silvio Berlusconi e lo sfidante principale sarà Adriano Gagliani. Buonasera e bentrovati a tutti voi a questo nuovo approfondimento del TG Plus. Buonasera e benvenuto a Marco Cappato. Grazie per averci dato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi. Allora, lo scorso agosto la presentazione delle firme aveva compromesso la corsa alle elezioni per le liste minori, tra cui anche la sua referendum e democrazia. Ora cerca la rivincita. No, non si tratta di una rivincita perché quella fu una battaglia per la democrazia e la partecipazione. Ricordiamoci, la firma digitale viene riconosciuta per pagare le tasse ma non per partecipare alla vita democratica. Quindi quella è una battaglia che continua. Questa è un'occasione diversa. È l'occasione di un'elezione su un collegio uninominale, cioè quindi si vota la persona, non la coalizione. E quindi è l'occasione di poter presentare la mia storia politica, le mie battaglie e chiedere ai cittadini di Monza e Brianza se sono d'accordo a vedere queste azioni, che io ho sempre intrapreso e intraprenderò comunque, vederle nel Parlamento, nel Senato. Ecco, però quel collegio è storicamente blindato a favore del centrodestra. Le elezioni del settembre 2022 Berlusconi aveva ottenuto 231 mila voti, pari al 50,26% delle preferenze. È una sfida non da poco. Sicuramente non è una strada in discesa, d'altronde non è che io sia abituato a muovermi su un campo facile. Io penso che sia possibile farci, innanzitutto se le opposizioni a questa destra decideranno di non mettere altri candidati, perché questo ovviamente renderebbe cose più complicate. Io credo che al di là dei recinti, delle coalizioni e dei partiti, anche tra gli elettori di centrodestra. Se si chiede che cosa pensano sulla libertà individuale, per esempio, di scegliere fino alla fine della vita, ai tavoli sui referendum tantissimi elettori di centrodestra, anche cattolici, erano d'accordo con me, con noi, con l'Associazione Coscioli. Quindi la mia speranza è che si possa andare sugli obiettivi e oltre il recinto delle attuali alleanze. Naturalmente questo lo chiedo e lo propongo alle forze di opposizione a questo governo e vedremo quale sarà la risposta. La sua candidatura ha già in realtà diviso le opposizioni. C'è stato un appello di Nicola Fratoianni affinché ci sia unità nel sostegno alla sua candidatura, però quello che ha fatto più rumore è lo scontro che c'è stato in azione. Abbiamo messo nel nostro blog di copertina il tweet di Calenda. Subito dopo il suo annuncio ha detto noi ci siamo, ti sosteniamo e lì si è creato un po' di malumori, quella Carfania che ha detto attenzione, poi quello è un collegio blindato, il PD è attendista, il Movimento 5 Stelle tace, completo silenzio. Mentre chi è che invece dice le cose come pensa è Matteo Renzi che abbiamo inserito nella nostra copertina e oggi ha detto che la sua candidatura non la convince. È una bella battaglia di immagine. Ecco, cosa risponde a Matteo Renzi e come si sente ad essere anche un motivo, diciamo, di divisione di questa opposizione che è così unita? Sono sarcastico ovviamente. No, appunto. No, a Matteo Renzi le mie battaglie, quando rischio 12 anni di carcere per aiutare le persone a non dover subire una tortura contro la loro volontà, non credo che siano battaglie di immagine, però ecco non voglio, per carità, non voglio convincere nessuno e non pretendo il sostegno come se sia qualcosa di dovuto. Io sono convinto che i temi che porto avanti non sono quelli sul fine vita, ma anche quelli per la vita della democrazia, per la vita del pianeta. In Europa abbiamo portato le battaglie civili sullo spostamento delle tasse dal lavoro alle emissioni e all'inquinamento, sino del battaglie che hanno grandi potenzialità di consenso anche elettorale. Dopodiché i partiti ovviamente hanno le loro logiche dinamiche che rispetto. Devo dire che quando una candidatura ottiene il sostegno di Calende e di Bonelli, per citarne due, che non penso siano quasi mai d'accordo su nulla, significa che c'è una potenzialità trasversale. Il sostegno è arrivato anche appunto da Più Europa, dai socialisti, da Azione e da radicali italiani, da altre organizzazioni, quindi a mio avviso se si vuole ce la si può fare e ce la si può fare unendosi su una storia e degli obiettivi, questo consentono di fare le elezioni suppletive, se invece le elezioni devono essere usate, ogni volta per fare la prova di forza muscolare del più 0,2 o meno 0,5 di questo partito contro quest'altro è chiaro che si considererà la mia candidatura non utile. Io spero che anche Matteo Renzi voglia cambiare idea, che il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si possano convincere della bontà della mia candidatura e sono a disposizione di ogni confronto anche pubblico su questo tema. Credo che c'è un punto in particolare che fa andare con i piedi di piombo il Partito Democratico e anche una parte dei centristi, la sua posizione sulla gestazione per altri che è al centro del dibattito in queste settimane. Tra l'altro lei ha detto, lo sappiamo, è volto di tante battaglie civili, l'eutanasia, la cannabis legale e lei ha detto che vuole portare queste battaglie in Parlamento, però la linea politica del governo è chiara e solida. Dall'altro lato vediamo appunto la GPA, le opposizioni non sono unite, insomma manca una sponda alla sua azione. Ma intanto non c'è solo il governo, ci sono tanti modi però di poter essere efficacemente parlamentari anche dall'opposizione. La gravidanza per altri è uno dei tantissimi temi dei quali si occupa l'associazione Luca Coscioni, pensiamo alla salute riproduttiva, alla lotta contro le discriminazioni, ai diritti delle persone, delle coppie dello stesso sesso. Insomma non voglio fare tutto l'elenco, sicuramente le forze di opposizione non hanno votato per la criminalizzazione internazionale della gravidanza per altri, come se le coppie magari di donne che hanno perso l'utero a causa di un cancro fossero dei criminali internazionali alla stregua di Putin perché cercano di rivolgersi all'estero alla gravidanza per altri. Noi abbiamo semplicemente detto con l'associazione Luca Coscioni che se non si vuole la criminalizzazione ma non si vuole nemmeno un sistema ipercommerciale, allora bisogna aprire a una gravidanza per altri solidale sul modello di alcuni paesi che lo fanno. Non penso che questo sia l'unico tema del dibattito politico, non si può sempre piacere a tutti su tutto, in questo caso bisogna scegliere se lasciare che scontatamente Galliani riceva l'eredità materiale politica del seggio di Berlusconi o se invece si può pensare di inserire in questa competizione elettorale delle idee, delle proposte anche diverse. Questo è quanto è in campo finora. Io sono convinto, ma non per presunzione, per come abbiamo vissuto le campagne referendarie di questi anni di mobilitazione, che tanta gente che è stufa della politica, che non va più a votare, tantissime persone giovani che si sono mobilitate sui temi delle libertà civili, magari troverebbero un motivo per esserci. Grazie alla mia candidatura non perché io sono bravo, ma perché è una candidatura che rappresenta proposte concrete, un metodo, mi consente di dire anche una tenacia e una passione su questo metodo che spesso è difficile trovare nel tipo di linguaggio del dibattito politico. Se si vorrà accogliere questa opportunità, la mia candidatura è lì per questo, se non si vorrà è chiaro che non è che poi quelle battaglie non le porto più avanti, si va avanti comunque. Senta, in conclusione Forza Italia è già tutta mobilitata per quella che sarà la campagna elettorale, perché insomma la sentono tutti molto profondamente, questo l'abbiamo già detto questo collegio, l'eredità di Berlusconi e quant'altro, però si inizieranno insomma con le azioni concrete dopo l'estate. Qual è invece la sua strategia? Sfrutterà anche questo mese di agosto per portare avanti le sue idee, per farsi conoscere nel territorio? Sì, allora Monza e Brianza è il collegio dove sono cresciuto, perché sono cresciuto a Vedano all'Ambro, che è proprio nel cuore del collegio. Domani siamo al Parco di Monza alle 19, proprio per mettere insieme i volontari della campagna elettorale, poi giovedì ancora una riunione online e sarà un agosto di lavoro e di preparazione della campagna. Per quanto riguarda la mobilitazione dei partiti e appunto Forza Italia eccetera, benissimo, faccio notare che un sondaggio del gazzettino che fanno ogni anno ci dice che quest'anno l'81% degli elettori del nord-est sono a favore della regolamentazione dell'Utanasia. Sapete quanti elettori della Lega? 78% a favore. Con Luca Zaya che è il primo presidente di una regione dove si è aperto all'aiuto alla morte volontaria. Voglio dire semplicemente non guardiamo tutto con i paraocchi degli schemi destra-sinistra, laici cattolici. A volte il Paese può essere unito su proposte che la politica non è ancora pronta a recepire ma la società è più avanti. Io spero che la mia candidatura sia un'occasione per rendercene ancora una volta conto. Grazie a Marco Cappato, candidato a lezioni suppletive di Monza, per essere stato qui con noi. Torneremo a risentirci immagino. Buona serata. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Ma l'appuntamento elettorale è per eccellenza nel prossimo futuro e l'Europa, le elezioni europee del 2024. Le manovre politiche sono già iniziate dentro e fuori i palazzi. Lorenzo Capezzuoli-Ranchi. La politica di per sé è qualcosa di mutevole, mai simile a null'altro se non a se stessa. Un fluido in continuo movimento ed evoluzione fra alleanze, possibilità, promesse, tradimenti e fiducia. Tante sul tema, a proposito, quelle già chieste dal governo Meloni. 25 con quella chiesta sul decreto P.A.B.S. E il paragone con i governi precedenti è impietoso. Nei primi 282 giorni di operatività il Conte 1 ne chiese 10, il Conte B.S. 21, Draghi 20. Insomma, blindare. L'operato del governo, lo stesso esecutivo, è anche il quadrato nel quale continuare ad operare. E chi sta fuori cerca convergenze, federazioni, movimenti, tanto parlamentari quanto politici. Ci ha provato Carlo Calenda con Matteo Renzi e poi sono finiti i due, come saggezza popolare declama, a carte 48. Ci ha provato e forse continua ancora a provarci all'ischline con Giuseppe Conte per ricreare quell'asse giallo-rosso che resse la seconda esperienza di governo dell'avvocato pugliese. Sì, insomma, quello delle 21 fiduce. E ci ha provato anche a sua volta in ottica europea lo stesso Conte, tentando di sedurre il Partito dei Verdi a Bruxelles senza riuscirci. Politica in Parlamento, sì, ma anche fuori dai palazzi. Si sono riuniti quindi sud-ist intorno alla figura di Cateno De Luca e del suo sud chiama Nord. E poi c'è anche chi tenta di unire forze, magari distanti fra loro, su temi condivisi però. In particolare dal centro Italia chiama a raccolta la destra extraparlamentare Gianni Alemanno, portavoce del Comitato Affermare la Guerra, che rilancia il suo impegno politico partendo da Orvieto. L'obiettivo è quello di riunire sotto un'unica egida dai no green pass ai pacifisti e ai cattolici da sempre attenti alle minoranze e alle questioni sociali. Ciò che, secondo Alemanno, la destra di governo targata Giorgia Meloni avrebbe, al momento, dimenticato. La cornice della presentazione di questo evento, però, non è secondaria. L'ex sindaco di Roma, infatti, ha presentato la sua proposta a conclusione del forum dell'indipendenza italiana che si è svolto in Umbria sabato e domenica a scorsi, su iniziativa di 38 sigle delle destre sociali e dei mondi del dissenso. L'obiettivo? Un peso sì, politico, una percentuale a due cifre. Ed è proprio lui il nostro secondo ospite. Buonasera e benvenuto a Gianni Alemanno, portavoce del Comitato Affermare la Guerra. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, partiamo dall'ultimo punto, toccato nel servizio da Lorenzo Capezzuoli-Ranchi. Il forum per l'indipendenza italiana. Hanno preso parte oltre 30 associazioni che mostrano una sofferenza a questa politica di governo. Lei ha detto chiaramente che siete pronti in autunno a lanciare un nuovo movimento politico. Quali sarebbero le caratteristiche, se c'è anche un nome, un bacino elettorale a cui attingere? Chi sono i delusi di Giorgia Meloni? Fa un po' strano parlare di questa parola perché vediamo come invece continua ad essere alta nei sondaggi, nella fiducia. Ma qui non si tratta oggi di puntare i delusi di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni in questo momento ha sicuramente un alto gradimento ancora tra l'opinione pubblica e quindi da questo punto di vista non è su quello che stiamo spommettendo. Il punto è un altro. Il punto è che a nostro avviso Giorgia Meloni è diventata, preme, su una grande promessa di cambiamento di quella che era la realtà italiana. Eppure più sta andando avanti dal punto di vista di governo, più sta di fatto interpretando una continuità del governo strike. In tutte le politiche, quella atlantica relativa alla guerra di Ucraina, quella relativa all'Europa, quella socio-economica, Giorgia Meloni purtroppo sta continuando su quella strada, che non è una strada che dà prospettiva all'Italia, è una strada che può apparire quella più comoda, ma in realtà è la strada che ha portato l'Italia a una situazione di sudditanza e di marginalità assoluta. Quindi noi critichiamo questo tipo di atteggiamento, lo critichiamo partendo da destra, ma sapendo che c'è un vasto fronte trasversale di persone da destra a sinistra, di gente che non vota, di gente che ha lottato contro la pandemia Covid, di gente che non è d'accordo sulla guerra in Ucraina, di gente che si prepara a combattere contro il Green Pass, quindi sostanzialmente non saremo la destra della destra, ma cercheremo di parlare a tutti quelli che sono realmente scontenti e vogliono un cambiamento che sicuramente non può essere offerto da Ennis Line. Senta, ma riguardo all'atlantismo di Giorgia Meloni, lei infatti ha criticato il viaggio negli Stati Uniti, più supina dei vecchi dell'ADC, l'ha detto in un'intervista alla stampa, ma cosa che non l'ha convinta in pratica? Perché la posizione di Giorgia Meloni sull'atlantismo è stata chiara fin da prima di arrivare a Palazzo Chigi, almeno nell'ultima legislatura, la diciottesima. Dunque, qui il problema non è il viaggio negli Stati Uniti, un premio all'italiano è giusto che vada negli Stati Uniti, che parli col Presidente americano e ci mancherebbe altro. Il tema è che Giorgia Meloni ha continuato sulla strada di Draghi nel schierare in prima linea l'Italia nella guerra in Ucraina, secondo quelli che erano i desiderati americani e contro gli interessi italiani e europei. Da questa guerra abbiamo tutto da perdere, l'Europa ha tutto da perdere, gli Stati Uniti hanno tutto da guadagnare e non si capisce perché l'Italia, pur rimanendo nella Nato, perché nessuno chiede di uscire da questa alleanza difensiva, non si capisce perché l'Italia deve essere in prima linea a questo conflitto invece di essere, come sempre stata ai tempi della Prima Repubblica, un ponte di pace, un luogo in cui si propone un tentativo di comporre il conflitto, peraltro secondo quello che è indicato da Papa Francesco. Quindi non si contesta il fatto che parla con Biden, si contesta il fatto che si allinea troppo con lui su politiche che non sono conformi al nostro interesse nazionale. Che avrebbe fatto lei se fosse lei il Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi? Io avrei sicuramente cercato di tenere l'Italia in una questione di neutralità attiva, un po' come Orban in Ungheria, lo stesso Erdogan in Turchia e sono due paesi della Nato, l'avrei cercato di tenere una sua posizione di neutralità attiva e avrei cercato di moltiplicare le iniziative di pace per cercare di fermare il conflitto. Ovviamente cercando una confluenza con la Francia e la Germania, perché questi problemi che abbiamo noi ce l'hanno Francia e Germania. Se l'Europa avesse preso questa posizione o se ancora oggi la prendesse, io sono conflitto che una bella spinta alla conclusione del conflitto potrebbe essere data. Basterebbe dire smettiamo di mandare le armi, sospendiamo l'invio di armi in Ucraina, se Putin accetta un cessato del fuoco, già questo sarebbe un segnale molto importante che potrebbe essere decisivo per la pace. Sulla questione invece europea, Giorgia Meloni ha rivendicato invece con orgoglio i successi ottenuti soprattutto sul tema dell'immigrazione e anche opinione di diversi analisti che da quando è lei Presidente del Consiglio, l'Italia ha un ruolo più da protagonista in questi summit internazionali, in queste visite, vediamo ad esempio la questione tunisina, no? Ma in realtà si tratta più di protagonismi personali della Premier che di risultati concreti per l'Italia, perché è vero che Giorgia Meloni sta promuovendo molti incontri nel Mediterraneo e sta cercando di creare delle situazioni diverse e questo gli va dato atto, però i risultati non si vedono e non si vedono per un motivo molto semplice, perché in Europa non si va a fare i primi della classe come purtroppo sta facendo Giorgia Meloni. In Europa si va a fare trattative durissime perché in Europa ognuno difende il proprio interesse nazionale e poi cerca un compromesso o una composizione. Teniamo presente che l'Europa sta premendo per la riforma del patto di stabilità che sarà molto più pesante di quello passato per farci approvare la riforma del MES, continua ad avere dei tassi ABC insostenibili e l'Italia più volte ha chiesto di avere tassi diversi senza ottenere nessun risultato, quindi siamo di fronte a un incastro perfetto che rischia di mettere gravemente in difficoltà l'Italia e lo vediamo già adesso sia per la guerra in Ucraina, sia per la situazione dell'Unione Europea che il PIL dopo la fiammata positiva dell'inizio di quest'anno comincia a fermarsi e sostanzialmente a rallentare. Domani lei sarà a Napoli per illustrare un'iniziativa legale che consenta un ricorso in tribunale a coloro che hanno ricevuto l'avviso di sospensione del reddito di cittadinanza. Perché non condivide la scelta del governo di sospendere questo sussidio? In campo sono stati messi altri strumenti, l'assegno di inclusione, il supporto per la formazione del lavoro, poi la card dedicata a te per l'acquisto di generi alimentari e le pongo anche un'altra domanda, questa sua difesa, chiamiamola così, di reddito di cittadinanza e la sua posizione sull'Ucraina, l'avvicinano un po' al Movimento 5 Stelle? Ma sicuramente il Movimento 5 Stelle su molte tesi è l'unico che cerca di fare un po' di opposizione, Ellen Sline è ancora più allineata sul conformismo di quella che è la Meloni, quindi è l'oppositrice perfetta, è quella che ti induce a fare gli errori e andare sulla stessa strada. Ma al di là di questo, il problema è un altro, il problema è che il reddito di cittadinanza andava non abrogato ma sostituito con strumenti specifici per chi non trova lavora, non solo quelli, diciamo così, i cosiddetti soggetti fragili in cui il governo si sta sforzando di trovare delle soluzioni alternative. Va fatto proprio per coloro che non riescono a trovare il lavoro nel loro territorio o per la loro fascia nagrafica, che potrebbero lavorare, che non sono soggetti fragili ma il lavoro non lo trovano. Ma qual è il cambiamento vero che va fatto? Bisogna collegare il reddito di cittadinanza al lavoro, cioè bisogna fargli fare i lavori socialmente utili, bisogna farli impegnarli nei eventi locali, impegnarli là dove c'è bisogno di lavoro, non lasciarli a casa a dormire come fece il Movimento 5 Stelle, perché che questo poi apre anche un varco lavoro nero. Quindi noi non vogliamo tornare a comere il reddito di cittadinanza, ma vogliamo che il governo tiri fuori un'alternativa credibile anche per chi pur non essendo un soggetto fragile non trova lavoro e sono tantissime persone. Il stesso discorso vale per il salario minimo. Sul salario minimo non si può dire no, è basso regalare questo tesi alla sinistra, perché il grande problema ancora più della disoccupazione in Italia è il lavoro povero, cioè gente che lavora, che si spacca la schiena ma porta a casa degli stipendi ridicoli. Grazie Alemanno per essere stato qui con noi, avrei altre domande da farli, ma ai noi il tempo è tiranno. Gianni Alemanno, portavoce del Comitato Fermare la Guerra, le auguro una buona serata, a presto. Grazie. E noi anche oggi ci salutiamo con il lavoro del nostro vignettista di fiducia, il fedozzo che racchiude in questa tavola il viaggio di Giorgio Meloni negli Stati Uniti. A domani. Grazie a tutti.